good morning vietnam tutti non vuoi proprio farlo bentornati ragazzi e benvenuti nella seconda stagione di breaking news un applauso la radio dove si dice soltanto la nuda e cruda verità oggi siamo tornati con un argomento diciamo che ci tocca un po tutti però prima di aprire di parlare dell'argomento vogliamo presentarvi il nostro ospite anzi la nostra ospite serena carlucci un altro applauso allora piccola truscina abbiamo fatto già tre volte l'inizio perché avevamo problemi col mio microfono e qui sempre tu sei proprio abbiamo problemi con gian si è rotto prima di iniziare domanda di rito che non conosci assolutamente no descriviti con tre parole forma altruesta gentile wow va bene allora perché abbiamo scelto questo questo argomento argomento gianni perché non abbiamo ancora detto l'argomento non abbiamo ancora detto l'argomento no no lo sto presentando lo sto presentando perché abbiamo scelto questo argomento a parte che lo leggono abbiamo scelto il cambiamento perché la nostra scuola sta vivendo questo cambiamento soprattutto per quanto riguarda il cambio del del dirigente scolastico e abbiamo scelto di chiamare serena perché dato che lei si è appena insediata a scuola perché lei fa il primo anno ha iniziato da poco può raccontarci appieno che cos'è un cambiamento e infatti prima domanda anche per semperare un po' come hai vissuto questo cambiamento dalle scuole medie alle scuole superiori allora diciamo che sono stata abbastanza tranquilla perché ero consapevole della mia scelta quindi parlavo con molte mie amiche oppure conoscenti che mi dicevano che avevano paura di iniziare dei compagni dei professioni dell'ambiente in generale però io ero molto sticati ma qualcuno ti ha parlato bene prima di venire al no tutti male è una masofista si vuole fare male sì tutti no vabbè non posso dire queste cose sì sì tu dico quello che vuoi è la nuda e cruda verità e allora ragazzi mi hanno parlato di merdo e cazzi uno schifo più totale però per più che altro non per l'ambiente in sé ma per le materie il greco e il latino il greco e il greco però diciamo che sì mi hanno parlato male mi dicevano ma perché ma perché facevo eh ragazzi è la mia scelta collegandoci a una puntata vedi come mi vengono gianni ma vedi come mi vengono collegandoci a una puntata vecchia che abbiamo fatto no tu hai quindi scelto di fare il classico in generale prende il cagnazzi ma in particolare il classico perché hai detto che è la tua strada no nonostante ti avessero parlato male hai scelto di prendere tu che ambizione hai future se dovessi non lo so allora io ho scelto il classico perché non ho ambizioni sto scherzando perché ne ho tante e quindi non volevo indirizzarmi nel studiare cinque anni una materia magari come pedagogia psicologia oppure lingue diciamo sprecando questi cinque anni magari con una cosa che in futuro non mi sarebbe servita quindi ho fatto scelto il classico così faccio materie generiche anche come il greco zitto così diciamo che poi ho ampia scelta all'università è anche un buon metodo di studio sì ci può stare con un ragionamento ti vedo convinto no 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 sono convinto penso allo stesso modo però per esempio in realtà anche il socio economico e le scienze umane hanno più o meno queste caratteristiche perché anche se sono leggermente più specializzate comunque sono materie soprattutto il socio economico perché già scienze umane è più improntata sulla pedagogia no invece socio economico avendo anche diritto d'economia è una cioè è più generico comunque ti apre più sì diciamo che hai molte più strade percorrere cioè se punti a doverti preparare in parte al liceo per ciò che dovrai affrontare in futuro sì probabilmente sì sì ma tu studi il tedesco? lui in particolare no vabbè e tu studi greco ma vedi che secondo me allora a parte degli scherzi il greco è utile cioè allora a me fa schifo il greco ora ve lo dico non solo di parte fa schifo il greco però però secondo me è utile cioè studiare una materia del genere cioè una lingua del genere una interessante secondo me vabbè sì sì poi secondo me il tedesco il tedesco cioè a paragone è un diciamo che si parla inglese oggi capito anche se il greco è una lingua morta però serve di più studiare il greco che il tedesco secondo me non come materia in sé come cultura in sé ma più che altro proprio come mondo secondo me vabbè sì sono opinioni Gianni non devi farla no non sto vabbè ok comunque tornando al tema del cambiamento volevo chiederti hai già notato delle differenze proprio dal punto di vista sia positive che negative da questo cambiamento però prima vorrei fare una piccola parentesi dato che le scuole medie sono un po' traumatiche per tutti volevo chiedervi sia a te ma in realtà anche a Gianni perché comunque è simpatico analizzare queste cose come l'avete vissute le scuole medie? io male in realtà mi sono trovata male dall'inizio dal primo anno mi sono trovata proprio male con i compagni con i professori no i professori mi stavano simpatici anzi erano bravi a spiegare però ero proprio io che non riuscivo non a relazionarmi ma proprio ad avere un rapporto di fuori della scuola con queste persone poi ho avuto problemi personali durante quell'anno quindi no io per esempio le scuole medie allora in parte uno no vabbè io le ho vissute bene le scuole medie anche perché sono state un po' una palestra per me perché io arrivavo molto timido delle scuole medie perché io all'elementare ero un ragazzo, un bambino molto silenzioso e anche i primi anni delle scuole medie devi chiamare uno scuole sordimentare il ragazzo e in seconda e terza media invece ho preso più consapevolezza di me secondo me anche perché in classe mia c'erano dei ragazzi in generale molto esuberanti perciò secondo me loro inconsapevolmente hanno spronato anche me a far uscire la bestia il mostro a far uscire quello che avevo dentro perché in realtà nell'ambito familiare ero sempre stata una persona molto vivace allegra ma non lo mostravo esatto non lo mostravo molto quindi io ho questo ricordo comunque delle medie associo questo questo è la criminalità due invece io il periodo delle scuole medie l'ho vissuto un po' non l'ho vissuto allora no l'ho vissuto un po' no ma stavo facendo una battuta ma non è riuscita ma nel senso come per Serena non c'è sono con i miei compagni di classe non ho mai avuto un rapporto chissà quanto abbiamo avuto delle volte in cui ci parlavamo non è che ci odiavamo non ci parlavamo proprio ad esempio l'unico con cui avevo buoni rapporti Andrea basta e niente cioè è come se non è stato un po' strano il mio periodo delle scuole medie non saprei come descriverlo ma perché cambi tanto durante quel periodo è proprio una fase di vita diciamo ma poi mi trovo anche un po' cioè non male ma perché cioè non male le medie in generale cioè i professori mi erano ottimi dal mio punto di vista sì ma io però non sono i professori no no nel senso cioè a coprire diciamo quel vuoto tra virgolette di compagni che comunque non riesce a fare amici secondo me cioè avere degli ottimi professori non c'è capito quello che intendo sì poi secondo me alle medie c'è il problema che se tu non trovi una relazione con i tuoi compagni che conosco tante persone come voi due a differenza del liceo non hai quell'opportunità di conoscere gli altri perché sei un po' costretto a rimanere nella tua classe non so spiegarlo ma soprattutto magari noi al Cagnazzi essendo comunque tre sedi più piccole quindi ti costringono a stare insieme essendoci anche più attività scolastiche ovviamente liceo, assemblee tu non le hai ancora vissute però a breve ci saranno quindi che gioia quindi il 21 ottobre la cerimonia di inizio anno scolastico e quindi hai l'opportunità di conoscere altre persone anche tu oggi in realtà Gianni lo conoscevi meglio me mi conoscevi ma meno quindi comunque l'opportunità per conoscere persone che sfortuna hai conosciuto me no ma che sfortuna era perché conosceva già Gianni puntualizziamo questa cosa o per entrambe le cose comunque a proposito di questo fatto cioè di non so cioè di quello che hai detto poi ho avuto un po' un problema diciamo tra virgolette che io dove andavo a scuola cioè dopo aver cambiato da padri più a mercadante il cambiamento anche il cambio di scuola questo è interessante cambiai dalla padri più alla mercadante per vari problemi che ora non sto a specificare a dire mi trovai in una classe che appunto quello che ho detto il mico cioè tra virgolette alla media siamo un po' tutti sciroccati è vero cioè un periodo di rincoglimento totale non mi sono mai adattato io perché appunto sono arrivato io dopo tutti gli altri perché cioè appunto dopo che loro hanno già cioè sono già conosciuti io quindi tu cambiando scuola ti sei trovato più in difficoltà e se perché giustamente gli altri essendosi già conosciuti tra di loro io essendo arrivato dopo cioè secondo me ho avuto molti più problemi ad adattarmi cioè credo di non essermi mai adattato in realtà alla mia classe a quello che era l'epoca neanch'io neanch'io veramente siamo gemelli no io più che altro mi sentivo diversa rispetto agli altri mi sentivo proprio diversa perché facevano parlavano gli argomenti che non mi interessavano è brutto dire non mi interessavano ma è vero non mi interessavano quindi non mi riuscivo ad integrare in discorsi particolari quindi non mi sono mai integrata più di tanto anzi alla fine della terza media forse è stato quello il periodo in cui ho iniziato a conoscere veramente le persone che che mi circondavano dice nell'estate no 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 proprio non lo so magari ci incontravamo ci mettevamo a parlare magari in quel periodo mi sono iniziata ad adattare ma la classe ormai era andata andata vabbè magari può essere anche che alcune persone su certi punti di vista maturano prima di altre magari tu Gianni che dicevi non ti riuscivi ad adattare a questa esuberanza continua no che io ho detto scherzando l'incoglionimento generale delle medie che ho avuto anch'io onestamente vabbè non ero un pazzo però ero un po' ero un po' stupido magari tu avevi già la consapevolezza che fossero solo stronzate quelle per questo non ti sei adeguato alla fine ci sta ognuno è diverso come tu per esempio che hai detto trovavi insensati alcuni discorsi che magari per te che su quei punti di vista eri già maturata prima non ti interessavano per loro comunque magari sì non è manco a volte colpa dei soggetti in sé di una classe ma del periodo esatto esatto e invece quindi questo cambiamento quindi possiamo vedere entrambe le medaglie di un cambiamento per esempio Gianni ha avuto un cambiamento che non l'ha portato alla fine a un miglioramento per esempio Andrea invece cambiando scuola lui si trovò molto meglio quindi il cambiamento diciamo lui arrivò in seconda ma vedendo in case ah sì 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 esatto e quindi tu stavi dicendo hai trovato già qualcosa di migliore quindi alle superiori oppure per ora allora diciamo che no vabbè è presto ovviamente sì sì io non do giudizi a frettati no però che dico cosa dico cambiamenti ci sono comunque perché come abbiamo detto prima diciamo conosco più persone anche se le conoscevo già in realtà molte persone io conosco tante persone dell'istituto non solo del classico di quella scuola cioè anche delle scienze umane del socio economico ecco ne conosco ok quindi ho conosciuto anche altra gente ovviamente quindi è una cosa una crescita anche sociale questo è il cambiamento sono d'accordo più che altro le persone ci sono sempre persone che fanno schifo parlo proprio con te ti ha puntato ti ha puntato ti ha puntato però che ci possiamo muovare la vita è giusta e tu Gianni come hai vissuto invece il cambiamento quando passasti dalle medie alle superiori allora il mio cambiamento dalle medie alle superiori allora è stato come per le scuole medie ma non dall'elementare alle medie proprio da media a media cioè da ah ok sì da scuola prima cioè non mi sono mai cioè non conoscevo nessuno in classe mia io ero proprio il ragazzo temido se tu immagini uno che non parla proprio con nessuno vabbè in realtà tu sei un po' timido comunque vabbè ma molto meno rispetto a come ero in prima cioè voi mai vedreste cioè se mai mi aveste conosciuto in primo superiore o prima non aveste mai detto questo è Gianni cioè proprio non ho mai che cazzo è stato l'app dopo ma che suoneria che suoneria ah sì vedi che mi fai perdere i punti del discorso una volta che riesco a fare la suoneria i punti come se stesse stesse facendo un elenco i discorsi i puntini elementari il filo del discorso vabbè i punti i punti vai 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 collega i punti non conoscevo nessuno quindi non mi sono mai adattato in primo io in pratica in primo non uscivo mai di classe stavo solo in classe stavo dietro dietro da solo con il mio compagno di banco la parlai di cose che nemmeno ricordo cioè parlavo di cose senza seguire le lezioni cioè solo cose che capivamo noi due e gli altri ci prendevano per pazzi in pratica noi eravamo proprio i reietti i reietti bravo poi vabbè la capiranno alcuni della mia classe poi secondo me il covid poi ha aiutato un po' per questo secondo me se non fosse arrivato il covid forse non avrei mai avuto un rapporto con i miei compagni di classe ma sai che è per assurdo io ho fatto tantissime amicizie in più con il covid per esempio molti miei amici stretti ho iniziato a parlarci tramite il covid durante la dad tramite messaggi eccetera in generale secondo voi se siete liberi ovviamente di dire quello che volete o non volete dire in quale momento avete vissuto il cambiamento interno più grande nella vostra vita cioè secondo voi quando è quel momento che avete capito che la serena di prima è diversa dalla serena di ora che bella domanda questa grazie grazie ringrazio tutti gli autori che me lo scrivono allora l'anno scorso in realtà quest'anno quest'anno sono cambiata completamente mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo cioè dicevo proprio non penso più come prima non mi sentivo proprio diversa e tutta questa questa faccenda è successa perché per alcuni fatti con amici ragazzi conoscenti diciamo che mi hanno portata anche famiglie in realtà che mi hanno portata a crescere perché molte persone se io vado a dire alcune cose che mi sono successe a molte persone della mia età parlo della mia età non saprebbero come diciamo spazio come muoversi in questi argomenti quindi io che li ho già vissuti quindi posso dire prematuramente si può dire mi fanno sentire diversa a volte però altre volte mi ritengo fortunata perché sono già non dico avanti però sono già preparata a quello che potrebbe succedere quindi sono cambiata sei già formata diciamo da questo punto di vista sì e tu Gianni se dovessi ah un'altra domanda per esempio tu hai detto che alcuni pensieri un esempio in cui proprio concreto in cui stavi pensando una cosa e hai detto porca troia non l'avrei mai pensata prima non avrei mai avuto questa premura di pensarlo allora allora io una cosa può essere stata tipo psicoanalizzarmi io prima non sapevo farlo magari sbagliavo una cosa e dicevo che quella cosa che ho detto è giusta mentre da quando c'è stato questo periodo di crescita mentale ho imparato a capire i miei errori a capire cosa c'è che non andava in me e a cercare la soluzione ecco questo secondo me è il passo più importante della maturazione a capire i propri errori e tu Gianni se dovessi se dovessi ripensare cioè pensare al periodo in cui ho capito che stavo cambiando ero cambiato penso in forse l'estate tra il secondo e il terzo superiore oppure proprio il secondo superiore e poi all'inizio del terzo e in che cosa sei cambiato cioè ti rivedi in lei anche sì per alcuni fatti sì cioè non ok è un po' complesso cioè capivo che era il cioè per esempio prima della seconda superiore ho capito che era il momento che dovevo cambiare sì tra virgolette era il momento di crescere da un certo punto di vista cioè mi sono trovato anche davanti a situazioni in quel periodo che come diceva Serena dai è come se non ti riconosci più a parte cosa quello che stavi dicendo ovvero psicoanalizzati no 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 quello non l'ho mai imparato a fare simpatica mi sono tornati indietrissima aspetta mi avete fatto perdere il tempo di nuovo siete sempre voi a cui si è fatto un montaggio di tutte le volte in cui Gianni si perde nei suoi discorsi sono tantissimi no ma nel senso non c'è sono anche abbiamo avuto questo fatto c'è di aspetta non so c'è ah sì ok avete fatto perdere il perché mi passano bisogno di cose per la mente però mi sono state poste davanti alcune situazioni in cui non ho saputo che cosa fare cioè dove ad esempio sono rimasto tra virgolette dove costretto e lì hai capito che devi cambiare 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 me e cambiare ciò che mi circonda diciamo perché secondo me dimmi vai parla no perché secondo me ciò che influisce una persona ovviamente è ciò che lo circonda ovvero le persone l'ambiente familiare e il resto e diciamo io vivevo un periodo un po' difficile sempre secondo superiore sempre da questi punti di vista e ho capito che se non facevo niente io non poteva fare niente nessuno e da là diciamo che è cominciato il mio cambiamento questo è un bel messaggio che stava mandando Gianni cioè mettetevi in gioco perché col cambiamento anche se ti può andare male col cambiamento si ottengono dei risultati Gianni ha capito che col cambiamento poteva diventare qualcosa di migliore perciò infatti se non avessi mai capito non sarei qua applauso a Gianni no veramente dopo questo periodo e cominciai a interessarmi all'istituto anche se stavo in terza sede però ah beh giusto molto voli aggiungere una cosa dallo Gianni stavo dicendo prima che Gianni mi interrompesse dicevo il cambiamento la crescita di noi stessi avviene non per nostra decisione appunto ma per fatti esterni che ci portano a cambiare almeno questo per me non so per voi però io in parte condivido quello che ha raccontato Gianni perché io sin da piccolo in realtà ho avuto questa cosa che la psicoanalisi di se stesso io l'ho sempre fatta da quando ero piccolo perché cercavo di capire io una cosa che mi sono sempre reso conto di me stesso che capivo sempre quando sbagliavo infatti secondo me uno dei miei uno dei pochi difetti che magari non ho è la presunzione di avere ragione perché solitamente mi accorgo quando sbaglio e quindi accorgendomi in che cosa sbagliassi cercavo sempre di fare meglio e perciò ho avuto questa cosa nel migliorarmi perciò anch'io come Gianni la vedo a volte il cambiamento è anche un qualcosa che ti autoimponi ma non perché perché è come se il tuo è come un obiettivo qualcosa entro te ti dice tu devi essere quello ma non come un obiettivo da raggiungere non essere diverso da te essere quello che sei veramente ce l'hai dentro e devi soltanto farlo uscire come uno scultore capito? uno scultore che pian piano spacca la pietra intorno una cosa del genere quindi sotto alcuni la vedo ho una visione che mette insieme i vostri due pensieri perciò è interessante comunque hai bisogno di uno stimolo per crescere ci vuole sempre uno stimolo che poi ti porta non tutti poi reagiscono a magari una cosa brutta crescendo altri magari serve che con la cosa brutta ricada riaccada riaccada più e più volte alcuni non crescono proprio quindi è vero non crescono proprio e sei sempre tu però molto spesso le cose che ti fanno male come può essere un'esperienza difficile alle medie una qualsiasi cosa poi ti ti costruiscono ti formano ti formano non mi veniva il termine esatto non mi aspettavo che dovesse uscire una puntata così toccante perché ci siamo toccati un po' nel profondo troppo iniziamo tutti con le mani a piangere però comunque ah devi aggiungere qualcosa tu non hai risposto alle tue domande a quali domande le faccio io le domande sono qui no dai ora siamo curiosi di ciò che no che cosa è la domanda che ha fatto Serena no bugia cosa sto a dire è quella che ha fatto tu no anche io ho avuto un momento in cui ho capito di essere cambiato ma perché vabbè io in primo anno ho avuto un momento un po' difficile e dopo essermi ripreso da questo momento mi accorgevo anche nell'attenzione che avevo nei miei parenti totalmente diversa cioè mi sentivo da quel punto di vista decisamente più maturato ma anche su alcuni ragionamenti che facevo poi io mi rendo conto di essere ancora un cretino come siamo tutti siamo tutti cretini abbiamo la fine 18 anni nel senso neanche siamo maturi lei 14 lei 14 io 17 alle 17 è l'unico maggiore perciò comunque rimaniamo scemi e saremo scemi per sempre probabilmente speriamo di no no non lo so Gianni sì sì lui sì no questa è la mia risposta allora la domanda semplicemente sì mi sento maturato per alcuni aspetti non riesco a capire se è appieno ancora probabilmente no quello intendo dire cioè tutti rimaniamo ancora tutti dobbiamo maturare probabilmente anche mio padre è ovvio ma le persone non smettono mai di imparare dei propri errori di maturare in generale di cambiare non è mai perfetto sapete una cosa brutta che c'è la convinzione che magari gli adulti oppure gli anziani sono già arrivati a un punto che loro le cose le sanno e sono quelle un problema che io noto nella mia famiglia ma anche credo in tutte le famiglie in tutti i genitori anche a scuola che gli adulti sono convinti di essere già arrivati cioè a un punto sono arrivati e basta siamo noi quelli che stanno percorrendo che è anche vero però nessuno smette cioè finisce di imparare capito sì anzi come alcuni dicono anche loro imparano da noi per alcune cose perciò dato che poi molto spesso sono anche tempi diversi quindi si impara anche a vicenda vicendevolmente sì ma ad esempio ci sono professori che nel momento in cui si fa una discussione qualcosa del genere è come se ti ascoltano ma non ti ascoltano veramente tu esponi un tuo pensiero non voglio dire quale ve lo dico dopo questa è una nuda e cruda verità vabbè non voglio parlare diciamo che tu dici un tuo pensiero quando il pensiero del professore in questione è del tutto sbagliato e parliamo sempre di te sempre così quindi è brutta come cosa perché non ti senti ascoltato oppure gli adulti tengono a sminuire i problemi dei giovani questo l'ho noto tantissimo perché magari nella loro generazione alla nostra età non facevano così tante esperienze non cambiavano più di tanto magari questo processo c'era quando si sposavano a 18 anni quindi c'è una cosa diversa esatto quindi è brutto perché molti non si riescono neanche a confidare con i genitori con i nonni con le zii con le persone più grandi in generale io ad esempio onestamente neanche io mi confido molto con mio padre ma non perché lui non capisca anzi lui sotto questo punto di vista è molto aperto ma perché non lo so io ho questa roba mia ma sul problema sono io non sono uno che parla così tanto in famiglia capito no ma nemmeno io cioè ciò che mi succede lo tengo per me esatto io in famiglia cambio radicalmente ci divento un'altra persona adesso voi mi vedete con mio padre accanto un giorno mentre camminiamo vi spaventate questa non è serena perché? perché ho paura cioè io ho paura della reazione che magari mio padre parliamo di mio padre ehi tu papà parliamo di te parliamo prima di te magari ho paura della reazione che potrebbe avere nel sapere esperienze che ho fatto cosa penso in realtà io tendo cioè comunque sono simpatica comunque in famiglia faccio le battaglie no non lo so però sono diversa in tutto penso molti comunque penso vabbè allora ci siamo vabbè siamo nei tempi giusti comunque perciò allora aspettatevi da questo podcast che ci saranno dei cambiamenti non tanto sul genere comunque noi porteremo sempre tematiche tematiche che toccano i ragazzi e quindi i ragazzi porteranno le loro tematiche eccetera ma più che altro ci saranno nuove rubriche all'interno del podcast perciò attenti alle novità e tanti ospiti speciali ce n'è uno incredibile ma non ve lo diciamo per ora non ve lo diciamo perciò ci vediamo alla prossima puntata di Breaking News arrivederci ciao ragazzi